Un pomeriggio di festa per l'inaugurazione di nuovi spazi all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Un grande murales e il campus Sport e Gusto sono stati presentati con orgoglio dalla preside Alessandra Di Pietro al sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia. L'idea porta la firma anche dei due giovani rappresentanti d'Istituto, Lorenzo Di Giovanni e Giorgia Coppa. Nell'occasione si è parlato anche di scuola e estate. Oggi inauguriamo un'area, un cortile interno del nostro istituto che è alla grandezza di 11.000 metri quadri. Diventa un luogo vivo, diventa il cuore della scuola, quindi aggiunge qualità alla vita dei nostri studenti perché qui si svolgeranno gare e tornei sportivi, si svolgeranno giochi didattici anche per i ragazzi più fragili e laboratori di creatività, sia nei mesi estivi che poi a seguire tutto l'anno. Quindi abbiamo creato uno spazio unico, però polifunzionale e potrà essere destinato a più classi contemporaneamente. Cosa accadrà qui quest'estate? Oltretutto con la possibilità di stare all'aperto che di questi tempi non fa male. Sicuramente ci saranno gare e tornei a squadre, ci saranno attività di educazione motoria e sportiva e anche in orario pomeridiano, questo nei mesi di giugno, luglio e settembre. Ma ci saranno anche dei laboratori che noi abbiamo definito di creatività. Faremo una formazione con esperti esterni e in particolare sulla street art. Andremo a breve ad inaugurare un bellissimo murale di 100 metri quadri che è stato realizzato da artisti internazionali di street art che saranno poi coach in questi laboratori di creatività all'aria aperta. Ma noi in estate svolgeremo anche attività di alternanza scuola-lavoro che attualmente si chiamano PCTO, percorsi per le competenze trasversali e quindi siamo già predisponendo gli stage per i ragazzi delle classi quarte nelle strutture ricettive, ristorative e turistiche. Quindi sarà un'estate che, come dice il Ministro Bianchi, sarà il ponte per un nuovo inizio. Una struttura che inaugura degli spazi che sono anche spazi per l'estate, per fare sport, ma d'estate si parla della questione anche scuola. Ci sono delle indicazioni ministeriali. Che cosa devono fare i ragazzi quest'estate? I ragazzi avranno, grazie al piano estate, l'opportunità di frequentare anche gli ambienti scolastici. Nulla è obbligatorio, ma sia le scuole che gli enti locali, territoriali, che le associazioni possono promuovere delle attività per permettere ai ragazzi la riacquisizione della socialità essenzialmente. È una base volontaria o comunque se ne terrà conto di chi c'è e chi non c'è? No, è assolutamente volontaria, sia da parte dei docenti, sia da parte delle scuole che da parte dei ragazzi. L'ideale è chiaramente fare in modo che la scuola diventi un luogo aperto sempre e per una formazione continua anche delle persone adulte. È chiaro che quest'estate serve come da ponte per permettere alle famiglie che magari non possono aiutare i propri figli ad avere occasioni all'interno delle proprie comunità di poter far recuperare gli apprendimenti ai propri ragazzi. Certamente a settembre riprenderemo in presenza. È chiaro che la DAD è stata un'esperienza, quindi abbandonarla del tutto non è il caso. Nel momento in cui dei ragazzi che possono avere delle difficoltà o in momenti particolari la DAD potrà ritornare a essere utile, ma chiaramente le lezioni saranno in presenza totalmente.